Al panificio di Villa Bate troverai le più svariate specialità. Potrai gustare rosticceria mignone, pizza a taglio, dolci, biscotti da rosticceria e delle torte buonissime. Dalle 18 alle 22 faremo per te delle buonissime pizze anche da asporto che potrai prenotare allo 091 614 69 60. Ottimo servizio, gentilezza e cortesia. Panificio, in via Giulio Cesare 48 Villa Bate Palermo.